Signori e signori, salvi a tutti! Visio17 di nuovo da questo quadrato e adesso vi spiegherò come fare delle registrazioni dei gameplay con XSplit. Questo è il metodo alternativo su come diventare uno youtuber game. Diciamo che l'ho pensato io e che XSplit ci può dare varie 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 utilità. Quindi, via con la sigla e continuate a seguirmi. Allora, signori, come state vedendo non posso mettere la webcam in basso a destra perché se no mi si sminchia tutto con XSplit. Allora, innanzitutto, cosa bisogna fare? Troverete un link in descrizione dove potete... Chiedo scusa, mi stavo sentendo pure la musica con YouTube. Kansas! La canzone bellissima che si chiama Carry On My Warzone, che in poche parole è la sigla di Supernatural. Allora, troverete un link in descrizione, quello di XSplit. Poi potete scegliere di scaricarla, la versione trial e comprarla, eccetera, eccetera. Adesso, piccola raccomandazione su XSplit. Allora, io ho la versione 8.1. Non so perché, visto che non cambia un cazzo dalla versione 8.1 di Windows, non cambia un cazzo dalla versione 8 e nonché è lo stesso kernel del 7, con vari parametri, solo che è ottimizzato, diciamo così. Mi si sminchia a volte che può crashare. Un consiglio che do a tutti, se non volete che vi si sminchia XSplit, dovete fare questa piccola operazione. Allora, innanzitutto andiamo nella cartella dove avete installato XSplit. Una volta entrati nella cartella di XSplit, tasto destro, proprietà, compatibilità, io eseguo due operazioni. Modifiche impostazioni per tutti gli utenti, faccio io. E metto, esegui questo programma come amministratore, io questa cosa qui non me la so spiegare. A volte alcuni programmi, per non farli crashare, mettete, esegui questo programma come amministratore. Alcuni ne hanno bisogno, tipo determinati comandi e operazioni che si fanno in command, bisogna usare, esegui questo programma come amministratore. Ma altri software che non ne hanno motivo, non so perché crashano se non hanno questa opzione. Va bene. Un'altra cosa per non farlo crashare, esegui il programma, ecco qua, esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 8. Alcune persone, se hanno disattivato la risoluzione dei problemi di Windows, non gli apparirà la risoluzione del problema perché a volte crasha XSplit. In questo caso, lo fate voi manualmente. Se invece avete la risoluzione dei problemi di Windows, lo chiede lui, lo risolvete e mette automaticamente in compatibilità in Windows 8 o Windows 7. Non so perché crasha, però in questa maniera non crasha. Adesso, mi state vedendo di nuovo la mia brutta faccia. Andiamo a vedere come registrare i nostri gameplay con XSplit. Questo è un metodo alternativo, vi ripeto. E vi dico, vi assicuro che per me è buono. Poi è alternativo un pochino mio personale. Allora, innanzitutto dobbiamo settare bene il software. Prima cosa di tutto. Innanzitutto andiamo in Tools, General Settings. E una volta, voi se non avete la risoluzione, io non mi ricordo, penso che non l'avevo, la risoluzione 1920x1080. Non mi ricordo se era, se l'avevo settata io o non c'era nei settaggi di Views, in poche parole, Views Resolution. Quindi, se non l'avete, basta andare in Tools, General Settings, andate in Resolution e selezionate la voce 1920x1080 HD TV Video 169. Per chi ha un monitor 169. Se no, scegliete la risoluzione che avete del vostro monitor. Per sapere, se non avete un monitor in Full HD a 169, basta andare in, sul desktop, cliccare su Risoluzioni dello schermo e vedete la risoluzione che avete in quel momento. Questo passaggio vale per, in Windows XP, non consiglio più di fare queste cose con Windows XP, detto chiaramente, proprio. In Windows Vista, detto anche, dite in culo, non consiglio, proprio come sistema operativo. Quindi, in Windows 7 e Windows 8, l'operazione da fare è sempre la stessa. Guardate la risoluzione che avete e dopo la selezionate qui. Va bene? Ci sono tutte le risoluzioni del pianeta. Una volta fatto questo, selezionate pure, io almeno adesso non l'ho selezionata perché se no andavi in conflitto con Camtasi, il software con cui faccio le registrazioni, i recording screen. Selezionate anche Start Local Screen Broadcast. Questo qui dovete selezionare. Adesso vi spiego anche come si installa, se non lo avete installato voi, perché è un plugin. E io di solito metto sempre F9, sono abituato a premere F9. Però adesso non lo seleziono perché se no, premendo F9, mi si chiude la registrazione di Camtasia. Voi selezionate il tasto che è meglio, che si accongiono più per voi. Potete premere pure, che ne so, Shift, Shift, Control, che ne so, freccia, oppure A. Una volta fatto questo, abbiamo selezionato OK, Resolution. In general bisogna solo settare il microfono. In questo caso io uso il microfono, non uso il virtualizzatore perché se no c'è troppo un ritardo tra l'audio e il video. Visto che sto registrando in questa maniera. E basta. Ora, andiamo. Voi dite, XSplit serve per fare le live. Ma non solo le live. Può anche registrare i vostri gameplay. Se avete un plugin, può registrare anche cosa fate con XSplit direttamente su una cartella. Quindi, per fare questa cosa qui, come bisogna fare? Basta andare in Broadcast, Add Channel, More. Una volta fatto su More, bisogna selezionare il plugin che ci interessa. In questo caso è Local Streaming. In questo caso da me c'è scritto Uninstall perché è già installato. Se non l'avete installato, cioè in Broadcast, se non vi appare la scritta Local Streaming, vuol dire che non è installato. Cliccate su Installa, attendete qualche istante che scarichi il plugin e lo installa, e poi lo trovate automaticamente in qua, in Local Streaming Vicious 17. Adesso, qui inizia, con questo premendo, qui inizia la registrazione, ma noi prima dobbiamo settare i nostri parametri. I parametri che io consiglio, tranne un'opzione, variano da computer a computer. Adesso vi faccio vedere. Il codec è X264. Max bitrate 14.000. Fermi tutti. VBR, variabile bitrate, qualche cosa in poche parole. Invece, e questo qui è, allora, in questa maniera i kilobit per secondo sono variabili. In questa maniera è una passata. Lui, in CBR, non sono variabili, i kilobit per secondo, e non fa passate. E anche la qualità è un pochino, di pochissimo, quasi impercettibile, inferiore. Ma il peso è molto, molto pesante. Quindi consiglio VBR. Poi, andiamo su questa rotellina per lane codec, in poche parole. Qualità 10. Perché un difetto che ha XSplit, almeno per quanto riguarda me, non salva né i navi e né in MP4. Salva in FLV. E non c'è modo per farglielo cambiare. Quindi, qualità 10. Poi, max che è in frame rate interval per secondo, ma io lascerei default. Poi, encoder preset. Questo qui vuol dire l'utilizzo, il carico della CPU. Come state vedendo, ci sono anche delle indicazioni. Cioè, raccomandato, basta selezionare, basta leggere quello tra parentesi, raccomandato per piccole CPU. Raccomandato per molti utenti. Non l'usare su un Dini, se non già hai, perché io lo traduco direttamente in dialetto, se non c'hai Windows 7. Non l'usare se non hai Windows 7, un i7, un processore, una CPU i7. Non l'usare se non hai un i7 di seconda generazione. Non l'usare se non hai una buona, una fast, una veloce Intel i7 di seconda generazione. Non l'usare se non hai un mostro di CPU. Allora, io lascio default. Io ho, precisamente come processore, per me è un egregio processore. Vi faccio vedere pure qua in alto a destra, vi faccio vedere qua in alto a destra, cioè ho il software acceso, sto registrando, ci sono altre piccole operazioni background, RAM libera 84%, CPU libera 65%. Il carico, comunque, ho una CPU abbastanza performante, precisamente, chiedo scusa che lo metto di qua, e poi mi sposto, precisamente la CPU è una Intel Core i7, se non erro, di seconda generazione, 3930K, a 3 GHz e 2. Poi c'è l'overclock che arriva fino a 3 GHz e 8, io l'ho spinta più o meno 6 mesi fa, 8 mesi fa, fino a, intorno ai 4 GHz e 3, intorno a una cosa del genere. È una CPU molto performante, però io, per giunta, la uso la downclock per risparmiare energie e cazzate varie che ora non mi metto a spiegare. Quindi, ritornando su queste opzioni, io ho messo max keyframe interval default, encoder preset very fast. Perché very fast? Che cosa cambia da very fast, per esempio, in slow, cioè se non hai una CPU potentissima? Il carico della CPU è molto importante, chiedo scusa al momento, è molto importante, quindi, più caricate la CPU e più i video vi andranno a scatti se non avete una CPU performante. Io ho una CPU performante, ma non capisco perché mi va ugualmente con tutte che un computer, andate nei link in descrizione, anzi, andate nelle note, nelle note della mia pagina di Facebook, nelle note troverete anche i componenti hardware che uso io e quelli che usa Wolf pure. Quindi noterete che non è proprio un computer scarso, però io uso questa qui. Poi, i buffer, io uso 14.000, il massimo dei massimi, però sono variabili, quindi che vuol dire? Visto che sono variabili, si autoregola da solo, i kilobit per secondo, in un gameplay, è capace che alcuni sono a 6,5 kilobyte megabit per secondo, io uso in questa maniera questa misura, che in questo caso sono 5.000 bit per secondo, sì, 5.000 bit per secondo. Alcuni saranno 9 perché è variabile e dipende da gioco a gioco. Se voi giocate un gioco particolare dove il bit è variabile e richiede più grafico come un Battlefield 4, saranno più alti. Invece, se usate un gioco con una grafica più minimalista, che ora non mi ricordo come si chiama il gioco, un sub-scrive, no, un sub-scrive, senti, sub-qualche cose, quel personaggio che tu devi scrivere le azioni che deve fare, guadagna le stelline, farlo diventare Superman, dagli a quello un giocattolo, il gioco che fa Favij che ha fatto molto successo, ma non mi ricordo come si chiama. Lì, in quel caso, i megabit per secondo saranno 5 più o meno, ma non scende sotto i 5. Ed è una cosa fondamentale e importante per quando noi dovremmo andare a esportare i file, perché i file noi li esporteremo in full HD a 5 megabit per secondo. Quindi, meglio se sono di più, perché se no, fra il passaggio della codifica e il passaggio della codifica del video all'esportazione, poi al montaggio video e alla riesportazione, calerà la grafica. Ed funziona come fare la fotocopia di una fotocopia. Quindi, la seconda fotocopia e la terza fotocopia non è mai buona quanto la prima fotocopia come qualità. Questo è il segreto, in poca parola, di fare i passaggi che siano i primi, che siano molto grossi. Ecco perché i file pesano parecchio. Perché alla codifica voi potete scendere di risoluzione e non perdere tanti dati video. Poi, andiamo in codec audio. Purtroppo, se usiamo MP3, i kilobit per secondo sono 80, quindi io preferisco ACLCHQ, kilobit per secondo 192. Il massimo. Frequenza. Frequenza. Sono 44100 kilohertz stereo. Si può scegliere solo fra stereo e mono e non c'è il 48000. Poi, selezioniamo anche l'opzione su salvo automaticamente la registrazione nel disco locale. È tradotto direttamente in italiano perché la mia pronuncia in inglese fa schifo al cazzo. Quindi, una volta questo, premiamo su OK. Abbiamo fatto il primo procedimento, importantissimo. Secondo procedimento importante. Come ho detto negli altri video, soprattutto nella sezione, nella rubrica come diventare uno youtuber gamer intermedio e avanzato, bisogna abbassare l'audio di gioco. Si può fare in due maniere. Abbassando l'audio di gioco, in questa maniera direttamente dal gioco, oppure abbassandolo dal software di registrazione, che in questo caso ce lo permette anche XSplit. Piccola parentesi, se voi state facendo un gameplay con un vostro amico, vi faccio l'esempio con Wolf, in quel caso l'audio di Wolf si sente anche nell'audio di sistema. Se si sente nell'audio di sistema e voi lo abbassate dal software, automaticamente la vostra voce sovrasterà di brutto quella del vostro amico, che si uniformerà con l'audio di sistema, che è anche quello del gioco. Quindi, se giocate con un vostro amico e state facendo la registrazione, l'audio dovrà essere abbassato solo, e ripeto, solo in game. Andate opzioni, in qualsiasi gioco ci sono queste opzioni. Andate in gioco, audio e abbassate il livello dell'audio, il generale, oppure ci sono le barrette, il generale del gioco. In questa maniera avrete l'audio del gioco basso, ma l'audio di registrazione del sistema, che registra il gioco, registra anche il vostro amico, il vostro amico sarà alta e anche la vostra voce. Va bene? Invece, ripeto, se non fate gameplay con i vostri amici, che state registrando con XSplit, abbassate direttamente l'audio da qui. Va bene? Io vi dico che l'audio si sente veramente, in confronto alla registrazione del microfono, l'audio si sente veramente alto, quello di sistema, che è anche del gioco, si sente veramente alto. Quindi, settatelo proprio al minimo. Una cosa che mi dispiace, questo software non può aumentare in decibel l'audio del microfono, quindi lo dovrete fare voi, nelle impostazioni della vostra scheda audio, se lo volete alzare di più. Io lo tengo già al 80% più un aumento di 10 decibel, potete pure aumentarlo quanto volete voi, basta che non si sente che si gracchia. E qua siamo arrivati al consiglio audio. Adesso, quale altro consiglio c'è? Passiamo adesso a quello che vedete, vi faccio vedere, scena 1, ci sono io che parlo, e qui, come vedete, in bassa a destra, qui, nelle scene, vedete, è live, solo visio 17. Andiamo in due, solo visio 17 più due webcam, cioè la prima e la seconda. Andiamo alla terza e abbiamo visio 17 gameplay in 16 noni. Io ho scritto 16 noni perché la webcam che vedete qui è in 16 noni, a confronto della quarta scena, che è gameplay, solo riquadro 4 terzi. Guardate come è cambiata, dalla scena 3, che è la webcam in 16 noni, alla 4 terzi. Ora, queste qui sono le più importanti per registrare. Ora, come si usa le scene di XSplit? Se volete scrivetemelo nei commenti e ditemi fai un tutorial su XSplit, perché non mi metto... Perché se mi metto a dire come funzionano le scene e tutto il resto, è un cacacazzo e questo video durerà più del dovuto. Penso che durerà un bel po'. Più del dovuto. Quindi, in caso, scrivetemelo nei commenti, io vi farò proprio... Mi metto qui. Io vi farò proprio un tutorial su XSplit, come si settono le scene e tutto il resto. Per adesso vi do le... Oppure smanettate, come dico sempre. Perdete 10 minuti della vostra vita e smanettate. Avete qua, add e aggiungete quello che volete. È inglese, ma è inglese di base. E anche se non sapete l'inglese, basta che un pochino smanettate. Automaticamente il vostro cervello memorizza quella scritta che fa quella cosa. A meno che non avete proprio l'intelligenza di un uovo di Pasqua, ve lo ricorderete sicuramente. Pensate che pure io non ho una grande intelligenza. Poi, adesso, settiamo, andiamo adesso in questo riquadro. Scegliamo che questo è il nostro riquadro di gameplay. Un'altra cosa, voi mi direste, la forma giusta direste il verbo. Scrivetemelo nei commenti in caso. Mi direste. Mi direste o mi direbbe? Mi direbbe, sti, sta, mi direi sta, no? Vabbè, inglese è livello 100, ok? Ok, inglese, italiano, verbi, livello 100. Grande livello 100 di nuovo. Allora, settate le impostazioni. Perché io non uso XSplit? Perché io uso XSplit e non Open Broadcast e altri? Perché con XSplit c'è molta più manovrabilità e personalizzazione delle scene. È molto più facile, è molto più intuitivo, è performante. Mi piace veramente. Open Broadcast è gratuito, è open source, è bellissimo. Ma ha troppe impostazioni a livello tastieristico e mouse e non visuale in questa maniera. Preferisco più XSplit che Open Broadcast. Con tutto che Open Broadcast è un software della madonna. Quindi, selezioniamo la nostra scena e smanettiamoci un pochino. Se voi, adesso mi sposterò in alto a sinistra. Se voi state vedendo qui, in alto a sinistra, io ho già aperto un gioco. Ve lo faccio vedere. Io spero che si veda. Non lo so, con la registrazione di... Ok. Con la registrazione di gestione attività e ritorno... Con la registrazione di XSplit e un pochino... Con la registrazione di Fantasia un pochino si sminchiano i giochi perché Fantasia può fare i record di screen in area Windows e non in area gaming. Ora, una volta qui e abbiamo acceso il gioco, dobbiamo uscire un attimo dal gioco in area Windows per dirgli Seleziona il gioco che... Per mettere il gioco su XSplit gli dobbiamo dire che cazzo di gioco è, ma lo dobbiamo prima aprire. Questa è la nota dolente. In questo caso, quando siete in gioco, premete Ctrl Alt... I tasti dell'hacker sono questi. Chi incomincia a smanettare con il computer e deve farsi montato di culo, deve... L'ho detto in video, video precedente, è Ctrl Alt Cance e sono i tasti dell'hacker pezzente, in poche parole, del bimbo minchi hacker. Quindi, premete Ctrl Alt Cance e fate gestione attività. Perché fate in questa maniera? Ritornate in Windows ma senza chiudere il gioco. Prendete il vostro XSplit e fate su Add. E poi fate Add Game. Come vedete, io ho più giochi... Non so quanti giochi ci ho installati sul mio computer adesso. Che non ci gioco quasi mai, a malapena... Cioè, dal 2006... Mi pare che Fallout è uscito il 2007, Fallout 3... E Fallout New Vegas è uscito il 2009. Io solo adesso sto giocando a New Vegas. Dal 2009. Non ho un gran che di tempo. Oltre perché Fallout 3 l'ho finito qualche mese fa e è un capolavoro. E come vedete, c'ho tutti questi giochi qua. New Vegas, Counter Strike, Gorob del Gio... Che ringrazio Wolf che me l'ha regalato. Un bel gioco. Bello. È un gioco, punto. Facciamo così. È un gioco. Left 4 Dead, Sentirò 3, Sentirò 4. Call of Duty, Modern Warfare 3. Eccetera, eccetera, eccetera. Però, come vedete, aggiungi gioco. Se facciamo qui Add, aggiungi gioco, c'è solo un gioco. Quello che avete aperto. Quindi, selezionatelo. Lo mette come se fossero i livelli di Photoshop. Lo mette al primo livello. Voi spostatelo, prendete e trascinatelo sul secondo livello. Selezionate l'immagine e lo allargate in questa maniera. Direttamente in 16 noni. Perché prende la risoluzione del vostro schermo e la trasporta qui. Perché noi abbiamo selezionato prima Resolution 1220x1080. Ricordo, noi stiamo registrando sul nostro computer e non facendo una live. E adesso, come state vedendo, c'è il gioco. Quindi, adesso, cosa bisogna fare? Abbiamo il gioco. Adesso il gioco si blocca. Perché, io vi faccio rivedere. Accendi il gioco. E io sto vedendo che stanno giocando. Voi non so che state vedendo perché Camtasia non può permettere queste cose. Contro l'alto cangio, gestione attività e ritorniamo qua. E come state vedendo, gestione attività. Però, come state vedendo in alto a sinistra, non ha chiuso il gioco. X. E state vedendo che il gioco continua. Ha degli scatti perché sto usando due software di registrazione. In più, non è fatto XSplit in questa maniera. Però, come state vedendo, c'è il gioco. Se io premo su una cosa a casaccio... Si blocca. Ecco qua. Adesso, abbiamo il gioco e tutto quanto. Bisogna iniziare la registrazione. Allora, piccola parentesi. Vi ricordate che io, nelle opzioni in Tools, General Settings, Hotkey, vi ho fatto selezionare il pulsante di Start e Stop Local Streaming. Cioè, il tasto di partire lo streaming, in questo caso, è il locale, nell'artisco locale. Vi ricordate che io vi ho fatto selezionare il tasto che voi preferite. Che io preferisco F9. Adesso non posso selezionarlo, perché se no, se io premerò un altro tasto, mi si sminchia, perdonatemi, ma è così il software di registrazione. Mi si sminchia la registrazione, quindi lo attivo manualmente. Voi, in questo caso, una volta che siete in gioco, premete F9, aspettate qualche secondo che parte la registrazione. Non è che premete F9. Salve a tutti! Premete F9, fate 1, 2, 3, 4, 5. Salve a tutti, io sono Viscio17. Non partite appena premete F9, partite già con la registrazione e con la vostra voce. Va bene? Aspettate qualche secondo che parte la registrazione e la codifica e il salvataggio sull'artisco. Quindi io adesso faccio, clicco su Local Streaming. Voi basta che entrate in, prima entrate in game e poi cliccate su F9, ripeto. Io faccio il contrario perché se no mi si sminchia Camtasia. Quindi, Local Streaming, aspettiamo qualche istante. Eccolo qui, avete visto quanti sono? 3 secondi sono stati. Infatti da me appare, sto salvando, eccetera, eccetera, e mi dà qualche informazione. Adesso accendiamo il gioco. E sta giocando. Ora io vi metterò, spero di essere bravo con il montaggio video, vi metterò anche cosa sta succedendo nell'area Recording Screen. di Recording Screen in Game di XSplit. Lo metterò da qualche parte nel video per farvi dire che io sto parlando, state vedendo la webcam, però funziona in questa maniera in poca parole. Stiamo registrando il gioco. Adesso io ripremo CTRL ALT CANCIO. Ah no, 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 mi chiedo scusa, ritorno in gioco. Gestione e attività. Ritorno in gioco. Ora, una cosa bella che possiamo fare con le scene, mentre stiamo registrando, è questa qui. Io spero che funzioni, no? Perché non è sempre affidabile determinate... Ah sì, se premo i tasti della tastiera numerica, purtroppo questo gioco funziona in questa maniera, con i tasti pure della tastiera numerica della tastiera. Io sto cambiando le scene. Bene, ecco qua. Ritorno sul desktop. Gestione e attività. Chiudi. Clicco su qualsiasi tasto. Per bloccare la registrazione, voi che dovete fare? Senza che uscite dal gioco, ripeto. Mettiamo così. Senza che uscite dal gioco, sempre in gioco, premette il tasto predefinito per iniziare a registrare i vostri gameplay. Che in questo caso noi abbiamo settato... Io setto di solito F9. Quindi direttamente in gioco premete F9. Va bene? Perciò non fate come me, che io ho cliccato qui perché, vi ripeto, se non mi si sminchia Camtasia, se non si è già sminchiato perché già più di una volta ho fatto una quindicina di prove, mi si sminchia. Qui andare a fortuna con due software di registrazione completamente diversi e quasi completamente incompatibili fra di loro. Quindi premete F9, stoppate la registrazione direttamente in game. Finite la vostra partita, fatevi quello che volete, uscite dal gioco. Ora, per trovare il nostro gameplay, dove bisogna andare? Senza che facciamo procedimenti in cartella e cartelle, basta sempre andare nel nostro XSplit, cliccare su Tools, My Recording, Mi Registrazioni, selezioniamo. Ragazzi, vi sto ripetendo le cose perché mi sono accorto che alcuni, se sono dei ragazzini piccolini, vabbè, hanno un po' di difficoltà, il cervello non è ancora sviluppato al 100%, ma se me lo dice una persona grande, dopo che io lo spiego in una maniera povera, papale papale, lo ripeto, terra terra, semplicissimo, non ha capito? Ragazzi, non seguite questa videoguida, detto chiaramente, chiudete o seguitevi le videoguide di un altro che non fa la stessa cosa mia. Però, va bene? Ora, passiamo un attimo avanti con i video, come state vedendo, il gameplay, il frame rate, ecco, poi è partito, ecco perché vi ho detto che un pochino si smiglia. Come state vedendo, non è neanche fluido, va bene, la qualità video, l'avete vista, è buona, cioè, la vedete buona in una maniera, diciamo, un pochino particolare perché, ugualmente, ho fatto questa registrazione, poi la sovrappongo sul video, poi c'è la registrazione di Camtasia, poi c'è l'esportazione in kilobiti che dico io, in megabit per secondo che dico io, e quindi la risoluzione la vedete in una maniera un pochino, diciamo, più scarsa, ma vi posso assicurare che la risoluzione è buona. La fluidità di meno, ripeto, perché c'è anche Camtasia che caga il cazzo. E perché se no, come faccio io i tutorial? Voi mi dite, usate Fraps, usa quello, usa quell'altro. Ragazzi, guardatemi un attimo, vi sembra una mezza pugnetta? Non mi sembra una mezza pugnetta. Quindi, c'è un motivo perché faccio in questa maniera. Andiamo avanti con il video, vi faccio vedere che, nel frattempo che noi abbiamo selezionato, io per cambiare le scene ho selezionato il tastierino numerico che ci addestra della tastiera. Voi potete selezionare qualsiasi tasto, l'avete visto che è molto personalizzabile. Andiamo avanti, come state vedendo, ha registrato il gioco. E adesso, ecco qua, adesso vado a toccare anche. Non spero che funzioni, no? Perché non è sempre affidabile determinate... Ah, sì, se premo i tasti della tastiera numerica, purtroppo questo gioco funziona in questa maniera, con i tasti pure del tastierino numerico della tastiera. State vedendo. Io sto cambiando le scene. Quindi, queste cose qua le potete fare direttamente in game, passare da una scena all'altra. Ritorniamo qui. MPC ha crashato pure il Windows Media Player Classic. Ripeto, per trovare i salvataggi che abbiamo fatto, le registrazioni che abbiamo fatto, basta andare in Tools, My Record, My Record, eccolo qua. Il peso è relativo, però vi dico che come rapporto qualità-peso è buono. Non è eccellente come Dictory. Dictory per me, come registrazione, e l'ho spiegato nella rubrica come diventare un youtuber gamer informatico, Dictory è, non dico la perfezione assoluta, ma è l'eccellenza. Qui state vedendo che c'è il nostro gameplay. Adesso, ripeto, come saltare, qui lo seleziono, no, non lo devo cancellare, come saltare da scena a scena, come crearle, ci sono due cose, o smanettate, o mi scrivete, fai una video guida su come settare le scene, e salvare dei profili su XSplit, scrivetemelo, perché se no io non mi metto a farlo. Un'altra cosa, siete liberi di fare ciò che volete, cioè, io vi spiego le cose, faccio un tutorial, non posso imboccarvi più di questo, ecco cosa, mettiamoci qua che mi pare più figo, non posso spiegarvi le cose, allora, io le spiego, faccio un tutorial, le dico povere, papale papale, ma non posso imboccarvi, nel senso, anche se farò quella video guida, io vi spiegherò come ho fatto questi passaggi, come fare questo, che cosa significa, aggiungi una camera, come aggiungere una webcam, due webcam, come aggiungere una chiamata con Skype, una seconda chiamata con Skype, che voi l'avete visto sempre come ha funzionato XSplit, con Wolf.91, nella rubrica, come diventare un youtuber gamer avanzato, troverete il link in descrizione, però, il limite, il vostro limite, è la fantasia, potete fare cose 10 milioni di volte più belle di me, e potete fare 10 milioni di cose peggiori delle mie, perché il limite è la fantasia, è la creatività, essere unici e originali, quante volte l'ho detto in queste video guide, in queste rubriche, non ne avete la minima idea, e ve lo ripeto perché, è una rottura di coglioni vedere il copia, mi piace questo, il copia e incolla di altri youtubers, che non vi rende niente, non avete personalità, non avete carattere, non avete fantasia, non avete creatività, non avete, non avete niente, non avete, si sente già dai primi 3 secondi, quando una persona vuole dire, bella a tutti ragazzi, non riesce a parlare ad alta voce, o a essere in questa maniera, bella a tutti ragazzi, che cazzo è, già da questo si, io mo' sto scantonando, già da questo si vede, dai primi 5 secondi, appena è il saluto, o un saluto perché deve essere unico e particolare, sbada ragnao, sbada ragnao, io certo che non è che mi sono girato tutto, l'ho girata molto l'Italia per motivi lavori e sportivi, ma che cazzo, sbada ragnao, manga a Milano l'ho sentito, forse a Gorizia, ma non è più di quello, a grado forse, a grado, forse perché là sono vicini con, un'altra nazione, cioè con Slovac, Slovania, qualche, qualche nazione, quindi parlavano 4 lingue, quasi contemporaneamente, quindi, il vostro limite è la fantasia, non mi dite, Salvatore, come hai fatto la barra, Salvatore, io ve lo spiegherò, se me lo chiedete, però, queste cose qua, poi il limite è la vostra creatività, è la vostra fantasia, posso imboccarvi le cose, ma fino a un certo punto, quindi, io adesso ho spiegato, come registrare e fare, i gameplay, con, xSplit, io ho finito, con la registrazione, vi ripeto, nel video, nella video guida, di questa playlist, dopo ci sarà come, come non farsi sgamare, dal copyright, seguite pure, questa rubrica, e vi caccerà, bellissime soddisfazioni, Vicious 17, l'informatica papale, papale, mettete, un cazzo, di like, per favore, che mi sto facendo in quattro, Vicious 17, informatica papale, papale, ti saluto, pedifico, e vi caccerà,